Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Come dire, di incertezza e anche così di smarrimento nel rivedere queste immagini e questi obiettivi militari. Le chiedo che effetto fa e anche se questo effetto di unitario si riflette anche nell'atteggiamento della politica italiana, che è in una fase particolare, si sta aspettando l'insediamento del nuovo governo. Però nel PD ci sono grandi tentazioni di seguire una piazza pacifista. Insomma, come la vede? Queste immagini, queste notizie drammatiche che arrivano dall'Ucraina dimostrano una cosa che si sapeva, ma forse era un po' stata oscurata dalla campagna elettorale, dal fatto che le nostre notizie erano altre notizie. Cioè che Putin è senza scrupoli. Per condurre questa guerra Putin ha intenzione di utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione. sta costringendo 300.000 cittadini russi ad arruolarsi, ha tolto il divieto di chiamare le cose con il proprio nome. Cioè voi ricorderete che subito dopo l'avvio della guerra in Russia, la guerra veniva chiamata operazione militare speciale, non guerra. Invece adesso questo divieto è stato tolto perché la situazione deve essere... è impossibile non raccontarla e sta procedendo appunto con le immagini che voi vedete, con degli attacchi indiscriminati contro la popolazione civile ucraina. A dimostrazione del fatto che insomma la strada per il cosiddetto negoziato è molto lunga, perché i negoziati si fanno in due e Putin in questo momento sta aumentando la tensione, non è che sta dando dei segnali di distensione. Credo che in questo senso se si vuole con le mobilitazioni dare il proprio contributo si debbano anche qui chiamare le cose con il proprio nome. Cioè organizzare occasioni di manifestazione insieme alla società civile ucraina, alle comunità ucraine presenti in Italia. Oggi questa cosa l'ho scritta sul giornale Avvenire, ha risposto il direttore. E credo che si debba fare quello che propone Marco Bentivogli, che ha organizzato una manifestazione davanti all'ambasciata russa. Cioè si deve mettere tutta la pressione possibile sulla Russia perché capisca qual è la posta in gioco anche rispetto alle opinioni pubbliche occidentali. Quindi giovedì sera alle 18.30 davanti all'ambasciata russa a Roma saremo presenti anche noi. E lì parleranno appunto le prime vittime della guerra, che sono i cittadini quareini, che sono i primi a volere la pace. Ecco, io credo che non si debbano avere infingimenti, non si debba utilizzare questa situazione. Ma crede che il partito, perché leggevo anche, mi pare, sì, Repubblica riporta la notizia che il segretario del Partito Democratico, uscente Enrico Letta, ha detto questo. Insomma, questa manifestazione con un obiettivo e un interlocutore preciso, che è la Russia e soltanto la Russia, ed è in appoggio e soltanto in appoggio. E non, quindi, come dire, evitare un rischio di equidistanza. Però non è tutto così il partito, ma soprattutto si sente affiorare una critica comunque a Zelensky. Adesso la riporto, diciamo, anche perché sono le cose che vengono chieste, dette anche al bar. Ma insomma, fino a che punto vuole arrivare? E però adesso, a prescindere dalla ritorzione, dalla durezza della ritorzione, però insomma, l'idea che ci sia qualcosa di sbagliato, perché intanto è stato fatto saltare il ponte con la Crimea, e la Crimea, ma insomma, era data per persa. Ecco, non c'è il rischio che questo tipo di argomenti, unito al caro Bollette, risucchi anche una parte del PD che a questo punto non è più forza di governo? Guardi, io penso che la situazione in Ucraina meriti di essere analizzata per la situazione in Ucraina. Non può essere che anche di fronte alla situazione in Ucraina si parli delle divisioni della politica italiana. Una volta il PD, una volta le divisioni della nuova maggioranza. C'è una guerra, parliamo della guerra, parliamo di come contrastare il comportamento sanguinoso di Putin. Parliamo di come parlare con verità la nostra opinione pubblica. Non si può sempre utilizzare ogni cosa per farne dibattito politico italiano, anche un po' di gossip e un po' di inseguire le voci. Io credo che in questo senso sia... No, glielo dico perché non è per inseguire le voci, diciamo, lei ha ragionissima, però io credo che sia molto importante fare conti anche con i rischi che possono derivare, da spaccature del fronte politico, come messaggio sulla posizione internazionale dell'Italia, a prescindere da quello di stare al governo, dovrebbe arrivare, spero che arrivi, l'esponente di Fratelli d'Italia, anche per capire come pensano di tenere se mantenere questa posizione. Credo che sia questo il punto, non il gossip, naturalmente. Io penso che lei abbia molto ragione in questo senso. È importante che l'opinione pubblica sia informata, segua e si esprima rispetto a un conflitto che ha delle conseguenze dirette su ciascuno di noi. Certo, le conseguenze dirette sull'Ucraina sono conseguenze enormi, le conseguenze dirette sul resto dell'Europa sono di natura diversa, soprattutto di carattere economico. E quindi è giusto capire come si muovono le forze politiche. In questo senso lei ha assolutamente ragione. Marta, adesso... Volevo dire prima di tutto che...